ciao oggi presentiamo il porta tourniquet della serie bungee della vega holster disponibile in tre colori ha una clip sul retro regolabile e girevole compatibile con sistemi molle come potete vedere qui con cinte e cinturoni qui possiamo regolare l'altezza della cintura quando richiudiamo basterà chiudere queste due clip e girare questa leva e tutto viene bloccato cioè sul vostro cinturone sarà così oppure se lo volete mettere in orizzontale basterà piegarlo così il patch in pvc può essere rimosso e voilà dai ragazzi ciao 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 ciao